Via Pistoiese a Prato è una strada lunga e stretta che collega una delle porte storiche della città verso la periferia. Ma via Pistoiese non è una strada a caso, Doemer Milano Herrar. Via Pistoiese è il simbolo dell'immigrazione cinese sul finire degli anni 80 che ha investito Prato. In questa città i cartelli parlano in cinese e in molti casi manca completamente la segnaletica bilingue prevista dalla normativa comunale. Il popolo del dragone in una ventina d'anni, ma soprattutto negli ultimi dieci, ha stravolto completamente la geografia della seconda città più popolosa di Toscana. Proprio a causa dell'altissimo tasso dei cinesi nella strada intorno a via Pistoiese, l'intero quartiere si è guadagnato la nomea di uno dei maggiori quartieri cinesi d'Europa. È proprio qui che, alla fine degli anni 90, per alcuni cinesi imprenditori, il sogno di poter vivere una vita migliore è diventato realtà. Prato non fu un caso. La città è stata a lungo tempo uno dei maggiori distretti tessili a livello nazionale e internazionale. Ma come hanno fatto i cinesi a trasformare una città di provincia in una piccola Chinatown industriale? E soprattutto perché? Cerchiamo di capirlo in questo breve reportage di Italia Nascosta. Sebbene sia la seconda provincia più piccola d'Italia subito dopo Trieste, Prato è la terza città dell'Italia centrale dopo Roma e Firenze a livello demografico. Stando ai dati più attuali, la popolazione pratese ammonta a circa 192.000 abitanti, di cui, perlomeno a livello regolare, quasi 25.000 sono cinesi. Di questi 25.000, quasi tutti, circa il 95%, proviene dalla provincia dello Zhejiang e in particolare dalla città di Wenzu. Oltre a essere una delle maggiori province italiane con il maggior tasso di immigrazione straniera, soprattutto albanese, marocchina e pakistana, Prato registra una percentuale di residenti cinesi sulla popolazione superiore al 10%, un dato che nel resto d'Italia si attesta a malapena allo 0,4%. Per comprendere le ragioni che hanno attirato un numero così importante di immigrati cinesi qui a Prato, è importante e fondamentale capire il contesto nel quale ci troviamo, vale a dire il distretto pratese, la cui storia è quasi interamente dedicata al settore dell'abbigliamento. A livello del tessile l'Italia è un paese leader, sia qualitativamente che quantitativamente. Il polo industriale di Prato è stato uno dei maggiori distretti italiani e internazionali per la produzione di filati e tessuti di lana, uno dei principali per dimensione assoluta. Filati, tessuti per l'abbigliamento e l'arredamento, tessuti non tessuti e così via. Per darvi un'idea, nel settore tessile la città ha registrato nel 2016 un fatturato di oltre 2 milioni e mezzo di euro, una cifra enorme. Cifre molto importanti per una realtà diciamo medio-piccola come questa qui. Industrialmente Prato si è sempre sorretta sulle piccole imprese. Da un punto di vista produttivo le piccole imprese significano infatti varietà, innovazione e vivacità imprenditoriale. Tuttavia questa frammentazione si è rivelata nel tempo per Prato una debolezza. Il punto a sfavore di una realtà del genere è stata infatti l'enorme fragilità del tessuto industriale dinnanzi alle grandi crisi finanziarie. Ma come già avrete capito Prato non è diventata un polio industriale dal nulla. Se per esempio guardiamo al passato scopriamo che la città, grazie anche alla sua disponibilità di acqua del fiume Bisenzio che vedete qui dietro di me, è stata conosciuta grazie alle sue gore che erano, diciamo così, dei canali idraulici che permettevano alla città di diventare un importante centro manifatturiero specializzato nella lavorazione della lana, questo già all'inizio del 1200, e che in molti si riferivano a Prato come la città dei cenci, cioè degli stracci. Tant'è vero che ancora oggi a Pistoia, la città storicamente rivale di Prato, che è situata a pochi chilometri di distanza, si utilizza in forma goliardesca e denigratoria il termine cenciaioli per riferirsi ai pratesi. Piccola nota di colori, i cenci oggi a Prato sono dei dolci fritti e zuccherati. Da crocevia commerciale e manifatturiero, Prato conobbe però la vera svolta solo alla fine del XIX secolo, grazie alla concomitanza di vari fattori. Innanzitutto il decollo dell'industrializzazione che portò alla meccanizzazione dei processi produttivi. I famosi cenci, i ritagli di stoffe e abiti tritati e trattati in modo da ricavare un nuovo tessuto dalla separazione della lana, fruttavano ai pratesi moltissimi vantaggi economici, in quanto si trattava di prodotti ben rivendibili e facili a prodursi. Non secondario fu poi l'attività di ingenti capitali stranieri che contribuirono sul finire dell'Ottocento alla nascita di nuove aziende. Un esempio di questi investimenti all'avanguardia fu proprio il Fabricone, una struttura di 23 metri quadri, nata per volere di austriaci e tedeschi, è apprezzata come la più grande fabbrica di tessuti d'Italia nella prima metà del Novecento. Bene, tutto procede per il meglio, le produzioni e i metodi si standardizzano sempre di più nel corso dei decenni e arriviamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. È proprio in questi anni che con l'aprirsi della globalizzazione Prato riesce ad inserirsi e a fermarsi all'interno del settore tessile internazionale e in particolare quello della moda. Il mondo della moda è molto esigente, richiede un continuo rinnovamento delle collezioni, enorme flessibilità, puntualità e servizi sempre più variegati e complessi, ma Prato aveva ormai una struttura tale da permetterle di soddisfare l'esigenza del mercato meglio di qualunque altro distretto tessile mondiale. Nell'arco di qualche decennio Prato si trasformò in un caso di studio, fino a diventare un punto di riferimento per il cosiddetto distretto marshalliano, dal nome del cinquantesimo segretario di Stato statunitense, George Marshall. Distretto industriale, questa è stata la struttura minima di base della Prato di qualche decennio fa. È nei distretti industriali, fra capannoni e appartamenti, che si è andata a realizzare il progetto di integrare la vita lavorativa degli operai a quella privata, cioè uscivi di casa e in due balletti eri già al lavoro. Se comunque guardiamo un attimo alla fisionomia dei quartieri di Prato ci rendiamo immediatamente conto di una cosa molto importante, e cioè che circa il 70% della superficie urbana è stata edificata nell'immediato dopoguerra, vale a dire nel momento in cui Prato si è trasformata in una vera e propria città fabbrica. L'emblema di questo sviluppo è stato per molto tempo il Macrolotto Zero. Il Macrolotto Zero è il quartiere in cui si sono insediati all'inizio i primi immigrati cinesi, diventando il centro di riferimento della comunità cinese di Prato. Da qui, col passare degli anni, i cinesi si sono ampliati anche in altre isole della città, stavolta più periferiche rispetto al centro storico, rispettivamente il Macrolotto Uno e il Macrolotto Due. In entrambi i casi l'espansione della comunità cinese si è avuta del tutto negli anni 90. Il caso dell'immigrazione cinese a Prato è peculiare proprio perché i cinesi, nella maggior parte dei casi, non si sono inseriti all'interno di imprese italiane come lavoratori dipendenti, ma hanno fondato delle piccole imprese proprie, non solo nel settore tessile, ma anche in quello terziario, come ad esempio in alimentari, rosticcerie, agenzie di consulenza, agenzie di viaggio, gioiellerie, studi dentistici, scuole cinesi, negozio di informatica e così via. Col tempo questo ha fatto sì che si creasse un universo parallelo, una città nella città, con le sue regole e le sue leggi. È così che a Prato, specialmente all'interno del Macrolotto Zero e di Via Pistoiese, si è andata a configurare, nel giro di pochi anni, una vera e propria enclave cinese, ormai nota a tutti con il nome di Chinatown di Prato, un quartiere degradato e lasciato all'incuria, definito da molti un ghetto a tutti gli effetti. Ma la Chinatown di Prato non si è creata solo grazie all'aggregazione dei cinesi, qualcuno deve aver dato comunque loro la possibilità di poterlo fare e quel qualcuno sono stati da un lato i pratesi. Come gli stessi abitanti di Wenzhou, i pratesi hanno storicamente una particolare predisposizione all'imprenditoria, a tal punto che negli anni 70-80 Prato era a tutti gli effetti uno dei borghi industriali più efficienti della Toscana, se non che d'Italia. I cinesi immigrati in occidente, in particolare quelli di Wenzhou, erano generalmente migranti di tipo economico. Fra tutti i paesi europei, tradizionalmente i cinesi hanno sempre preferito quelli meridionali, dove risultava più facile inserirsi nei mercati locali e avviare piccole imprese. I cinesi hanno seguito un loro metodo imprenditoriale, il metodo del copia e incolla, il che significava che quando alcuni connazionali riuscivano a ottenere dei buoni risultati, tendevano ad imitarli. Ecco quindi spiegata la ragione di questo successo. Visto il successo di alcuni, molti si sono spostati nella speranza di ottenere gli stessi risultati agendo nello stesso modo. Accumulando denaro con il quale proporre delle offerte irrinunciabili alle piccole e medie imprese pratesi colpite dalla crisi degli anni 90 e 2000, i cinesi sono riusciti astutamente a investire i propri capitali nell'acquisto letterale di interi quartieri industriali. Convinte dal facile denaro in un periodo di stagnazione generale o anche strozzate dalla concorrenza straniera, molte generazioni di vecchi imprenditori pratesi si intascarono quanto offerto per lasciare in mano ai nuovi arrivati le chiavi della città. Ma anche la struttura stessa della città ha favorito irradicarsi della comunità cinese? A Prato sono molto diffusi i cosiddetti stanzoni, dei capannoni industriali pensati proprio per soddisfare le esigenze lavorative degli artigiani e dei piccoli industriali pratesi. Questi tipi di edifici presentano al pian terreno ampi spazi lavorativi, senza divisione tra reparti, mentre al piano superiore si trovano solitamente le camere e i dormitori per i lavoratori. Negli anni 80, in seguito alla costruzione delle nuove zone industriali del Macrolotto 1 e del Macrolotto 2, gli stanzoni del vecchio Macrolotto 0 furono abbandonati e, anziché essere demoliti dall'amministrazione locale, vennero lasciati cadere nel degrado. I primi migrati cinesi che giunsero negli anni 90 si stabilirono in questi capannoni abbandonati e cominciarono a lavorare al loro interno, organizzandosi allo stesso tempo con brandine e cucine provvisorie. Gli spazi in cui i primi cinesi si trovarono ad abitare erano ambienti totalmente fuori dalle normative igienico-sanitarie, erano spazi angusti e anche per non parlare delle camere da letto, che erano dei veri e propri loculi, e spesso questi capannoni erano luoghi di ritrovo per prostitute, senza tetto, clandestini, tossicodipendenti e chi più ne ha più ne metto. Un esempio su tutti è questa bellissima tavola calda che abbiamo alle mie spalle, che si chiama Mantulao. Questa tavola calda è nota a Prato per essere stata chiusa almeno tre volte dall'ASL per la mancanza di norme igienico-sanitarie. L'ambiente lavorativo diventò così un microcosmo opprimente, all'interno del quale trascorrere la totalità della giornata, dove oltre a lavorare era possibile mangiare, dormire, socializzare con gli altri connazionali e isolarsi dalla comunità italiana circostante. Dopotutto imparare l'italiano non era poi così neanche tanto necessario, alla fine a pensare a tutti gli aspetti burocratici, dal vitto all'alloggio era il datore di lavoro, un fatto che non favoriva certamente l'integrazione, ma anzi tendeva ad aumentare la discriminazione e amplificare l'isolamento etnico. Nel giro di pochi anni tutti questi cambiamenti portarono a un aumento delle proteste dei pratesi contro la situazione che si era venuta a creare. I pratesi si lamentavano sempre di più del degrado e delle pessime condizioni igieniche dei quartieri, dai cattivi odori del cibo cinese negli spazi comuni degli appartamenti, alle carni che venivano fatte siccare all'aria aperta. A questo si andarono ad aggiungere numerose leggende metropolitane sulla vita quotidiana dei cinesi, come ad esempio l'idea che i cinesi catturassero cani e gatti randagi per mangiarseli, o che siccome nessuno aveva mai visto un funerale cinese, i cinesi non morissero mai. Indubbiamente uno dei problemi è stato l'aver sottovalutato e ignorato il problema, perché il fatto di avere a disposizione mano d'opera a basso costo si è dimostrato vantaggioso per entrambe le parti, cinesi e italiani. Ovviamente una parte degli imprenditori cinesi è ben cosciente delle proprie irregolarità, ma c'è da dire che alcuni cinesi non si rendono conto di agire nell'illegalità, non sanno cioè di essere raggirati dai loro stessi connazionali. Fanno così perché dicono così fan tutti. È un ragionamento ingenuo questo, ignaro della realtà circostante, di una parte della popolazione che non ha la minima consapevolezza legale, linguistica e sociale di cosa sia l'Italia. Muoversi con disinvoltura nell'illegalità sarebbe stato poi impossibile per l'imprenditoria cinese se non ci fosse stato il diretto coinvolgimento degli stessi pratesi, molti dei quali avevano un notevole tornaconto personale nello sfruttare le situazioni di irregolarità, come ad esempio affittare immobili a prezzi rialzati, ricevere pagamenti a nero o aiutare i cinesi nella contabilità e nell'evasione fiscale. Ma torniamo un attimo alla Chinatown pratese. Ecco, l'esempio più emblematico della nascita di questo quartiere è questa realtà isolata a sé stante dietro di me, via Rota. Originariamente via Rota era una strada non asfaltata e senza sbocco, in fondo alla quale si era creata una specie di discarica dove era possibile trovare rifiuti di ogni genere. Negli anni 90 i cinesi hanno cominciato ad acquistare orti, villette e fabbricati su via Orti del Pero, qui dietro, la parallela in pratica, aprendo un accesso esattamente dove noi ci troviamo ora. I cinesi hanno continuato ad applicare poi questa tecnica di penetrazione urbana fino a che non hanno acquistato anche quella casa schiera gialla che chiudeva l'accesso su via Pistoiese. Una volta acquistata non l'hanno demolita, ma hanno cominciato a smontarla pezzo per pezzo, in modo tale che le autorità non si accorgessero neanche di quello che stava accadendo. A fatti compiuti, il comune non ha potuto fare altro che asfaltare la strada e ufficializzarla senza però mai averla progettata. Con l'espansione dell'imprenditoria cinese nel 1992 si contavano circa 212 ditte con titolare cinese regolarmente registrate. Attualmente sono più di 5200, il che ci fa un pochino pensare alla gravità o comunque alla dimensione della situazione. Ciò fu facilitato anche grazie a una serie di sanatorie come la legge 4098 che favorì l'inserimento nel mondo del lavoro di immigrati regolarizzati. A questo flusso di regolari si andò però ad aggiungere un numero stimato, inattendibile, di immigrati illegali. Tra le stime più azzardate si hanno numeri vertiginosi, circa 20.000 cinesi illegali nel solo comune di Prato. Numeri così alti non fanno pensare a nulla di buono, dato che sono facilmente ricollegabili al traffico di esseri umani nazionale e internazionale. Sempre poi nel quadro dell'illegalità simbolica fu l'affermazione della Confartigianato Pratese nel 2017. Le aziende cinesi non possono essere considerate una risorsa, né tantomeno un'opportunità, fino a quando non agiranno nella completa legalità. Ricevono più di quanto lasciano sul territorio. Le prime aziende cinesi degli anni 90 si sono inserite nel sistema produttivo pratese in qualità di sub-fornitori e anche poi di fornitori. Molte delle ditte italiane videro, almeno nelle aziende cinesi, e soprattutto inizialmente enormi benefici. Primo fra tutti i costi particolarmente bassi. I prezzi offerti dalle aziende tessili cinesi erano molto più competitivi e vantaggiosi rispetto a quelli di altri fornitori italiani. Inoltre, grazie alla loro rapidità e alla loro capacità organizzativa, i cinesi garantivano alle grandi filiere pratesi tempi di consegna ridotti e di produzione più rapida. In parole povere, tempo risparmiato per avere un maggiore guadagno di denaro. Se per le ditte italiane produrre un capo di abbigliamento aveva un'incidenza del 50% sul prezzo finale di vendita, per i cinesi questo era solo del 5%. Molti di questi operai erano inoltre clandestini in Italia ed erano di conseguenza senza diritti e senza alcuna protezione, se non quella del loro stesso titolare. Non era raro sentire di cinesi che lavoravano per 18 ore al giorno facendo orli ai pantaloni e guadagnando a nero a malapena 500 euro al mese. Per gli italiani però questo vantaggio fu temporaneo, giusto il tempo per far sì che i cinesi imprenditori accumulassero capitali con cui acquistare e controllare l'intero settore, un controllo che è stato poi anche agevolato dall'infiltrazione della mafia cinese. Diventando imprenditori, molti cinesi cominciarono poi a sponsorizzare la propria attività in madre patria e attirare, con grandi aspettative, nuovi operai, nuova forza lavoro, con cui sostentare a bassi costi le aziende tessili. Molti cinesi furono convinti a migrare dall'ambizione di diventare se stessi imprenditori di successo, ma spesso i primi anni di lavoro servivano più che altro a ripagare i debiti contratti per pagarsi il viaggio. In pochi riuscivano a sfondare e a diventare ricchi. Quei pochi che però riuscivano a fare il grande balzo in avanti da operai a imprenditori rivoluzionarono completamente l'assetto industriale cittadino, dedicandosi in tutto e per tutto negli anni 2000 nel settore del pronto moda, vale a dire tutti quei vestiti fatti in tempi ridotti e con processi produttivi dimezzati. Il pronto moda cinese è stato visto da molti come una colonizzazione economica, che proprio in quanto colonizzazione non contribuisce a far progredire la filiera produttiva locale, ma ne sfrutterebbe le risorse per rafforzarsi separatamente, quasi come un mercato parallelo. Considerati i tempi produttivi ristretti del pronto moda, non era assolutamente difficile evadere le tasse in un ciclo produttivo che durava a malapena un paio di giorni e che non lasciava traccia di quanto fatto. Dall'acquisto dei tessuti, al confezionamento e alla vendita del capo finito, tutto quanto era fatto a nero. A rendere ancora più negativa la percezione di molti pratesi nei confronti degli immigrati cinesi era poi l'ingente quantità di denaro che veniva trasferita in Cina sotto forma di rimesse. Le rimesse sono in parole povere quei soldi che un emigrato invia alla propria famiglia al suo paese d'origine. Prato è, guarda caso, la città italiana con la più alta quota di rimesse pro capite. Nel 2012 sono stati legalmente trasferiti più di 187 milioni di euro da questa città verso la Cina. Ma in che modo? Beh, attraverso uno dei cosiddetti MTO, cioè i Money Transfer Operators. Nati per facilitare il trasferimento di denaro rispetto alle normali banche, gli MTO sono stati spesso sfruttati come tramite per flussi finanziari illegali, pagamenti in nero, riciclaggio di denaro, contraffazione, frodi commerciali e, dulcis in fondo, evasione fiscale. Sostanzialmente le rimesse erano diventate una ricchezza sottratta allo stesso distretto pratese che le aveva generate. Negli ultimi anni, per quanto riguarda la comunità cinese e le varie situazioni illeciti che la coinvolgono, qualcosa sta effettivamente cambiando. La stessa Prato sta, come dire, cambiando. Non è più ovviamente la stessa Prato di dieci anni fa, né quella nella quale io ho vissuto negli anni 90. In molti si chiedono cosa accadrebbe a Prato se tutti i cinesi sparissero all'improvviso dalla città. Probabilmente il Macrolotto Zero si trasformerebbe in una città fantasma e Prato andrebbe subito in fallimento. Il caso della comunità cinese di Prato è assolutamente unico. Ad oggi, fatta eccezione per alcuni cinesi di seconda e terza generazione, quel poco di integrazione che c'è è quasi sempre un'integrazione di comodo. Ma se si riuscisse a ottenere un buon livello di integrazione a tutto tondo, vale a dire sul piano sociale, culturale, economico e produttivo, forse si riuscirebbe a valorizzare una città come Prato. Una città sì decaduta, ma che ha ancora grandi potenzialità. Come sempre ragazzi, vi ringrazio profondamente per l'attenzione e spero che questo piccolo reportage sulla mia città natale sia stato di vostro gradimento. Un saluto in particolare a tutti i miei mecenati su Patreon, ai quali avevo promesso da tempo un nuovo video in itinere di Italia Nascosta e che da tempo mancava sul canale. Dovevamo andare a Trieste, ma purtroppo a causa del Covid abbiamo preferito restare in Toscana e concentrarci sulla seconda città più piccola dopo Trieste. Spero davvero di poter rimediare quando la situazione lo permetterà. Per il momento, un caro saluto a tutti. Ci vediamo presto, per Aspera ad Astra.